siamo i più sensibili siamo i più sensibili gen z siamo i più sensibili noi siamo i gen z che cazzo fai mario so che siete smettetela di succhiare le pareti siete disgustosi maniaci maniaci animali succhiano dal muro che schifo mi sei mancato da neanche voi mi siete mancati come il pane mi siete mancati con possiamo finirla possiamo effettivamente finirla qui oppure continuiamo ancora un po la finiamo qui o continuiamo ancora per un po a succhiare e ragazzoni che coinquilini strani si sono tutti sono tutti ragazzi super divertenti tornando al discorso principale senza probabilmente avere intoppi di succhiature dalle pareti ma se non ho un cazzo di euro perché devo come non è un bel esempio anche se non mi interessa forse lo faccio comunque anche se non è un euro gioco tutto basta basta